Chi può aprire la puntata di Ross e non quelli sulla bocca di tutti ultimamente? No, mi dispiace, non sto parlando dei Maximum Male Models, bensì di Kevin Owens e Sami Zayn. Proprio quest'ultimo ha preso il microfono per raccontare ai fan di come spesso in passato si siano usati l'un l'altro per raggiungere lo step successivo, per elevare il proprio status, per scalare una montagna, ma lo hanno fatto sempre, consapevoli di essere fratelli, non di sangue, ma comunque fratelli. Owens sostiene da sempre che Zayn sia il migliore su quel ring e vederlo insieme alla bloodline gli ha fatto male. Quindi ora che si sono riuniti è il momento di distruggere la stable Samoana. E perché non farlo proprio a Wrestlemania? Gli Usos hanno interrotto i canadesi dicendogli che prima o poi si pugnaleranno alla schiena come hanno sempre fatto. L'Underdog from the Underground ha interrotto i due dicendo che Jay ha sempre avuto in mente di pugnalare Roman alle spalle e prima o poi lo farà. Ma bando alle ciance, perché non parliamo di una sfida a Wrestlemania? Perché non mettiamo in palio quei titoli al Grand Theft of the Mall? Gli Usos contro Sami Zayn e Kevin Owens. Jimmy inizialmente ha rifiutato, ma Jay ha fermato il gemello e gli ha detto mettiamo fine a questa questione una volta per tutte, quindi ci sarà questo match allo Showcase of the Immortals. Ma va? Non me l'aspettavo proprio! È partita poi la rissa, ad avere la meglio sono stati i Faze, nonostante gli Usos abbiano impugnato delle sedie per difendersi. E mentre i campioni di coppia stavano abbandonando la scena, Roman Reigns e il resto della Bloodline si è presentato senza fare udire nulla, in realtà. Capisco che la contesa era abbastanza scontata, era scritto dall'inizio che Kevin Owens e Sami sarebbero andati contro gli Usos a Wrestlemania. Però credo anche che l'importante è come si sia arrivati a questo match. Tutte le emozioni che Sami nella Bloodline ci ha regalato, e quindi non posso che ritenermi soddisfatto di questa faida, assolutamente è una delle migliori degli ultimi anni, senza dubbio. Match non valido per il titolo degli Stati Uniti, Austin Theory contro Montez Ford. Continua questa rivalità Street Profits contro Austin Theory e ancora una volta, come giusto che sia direi, il campione riesce ad ottenere una vittoria in vista della sfida con John Cena a Wrestlemania. In poco meno di dieci minuti è riuscito a connettere la sua A-Town Down ai danni di Montez Ford, dopo una bella contesa, non è durata tantissimo come ho appena detto, e vedendo Montez Ford da solo sono sempre più convinto che una run in singolo prima o poi avverrà. Dopo l'incontro e dopo la vittoria, ha detto che a Wrestlemania finalmente convincerà John Cena a credere in lui, quindi sì, non c'è la presenza di Johnny Boy, però più o meno la faida va avanti. Roman Reigns non è sembrato molto convinto con gli Usos per la loro sfida a Wrestlemania, però Jimmy ha detto che si occuperanno una volta per tutte di Sami e di KO e il Tribal Chief lo spera vivamente, ha poi chiesto a tutti di uscire dal camerino rimanendo solo con Jay. Il campione indiscusso gli ha quindi chiesto se può fidarsi di lui, se deve credere in lui, perché è sparito per settimane, non si è fatto vivo e poi è tornato come se nulla fosse. Jay gli ha confermato di essere un membro della bloodline, un membro della famiglia e Roman ha detto che gli vuole bene ed è l'unica cosa che gli importava sentire. Poleman è rientrato e il campione mondiale gli ha detto che era proprio la risposta che cercava, anche se sembrava un po' scazzato, molto serio. Chelsea Green è andata a frignare da Adam Pearce perché Carmella non ci sarà stasera, quindi ha chiesto un'alleanza con Piper Neven. E la compagna di Zack Ryder vuole inserirsi nel match titolato a Wrestlemania, eh? HOMOS contro Mustafa Ali con Dolph Ziggler spettatore speciale di questa contesa, in un minuto Ali si è preso la chokebomb del gigante nigeriano e tanti cari saluti. Dopo il match MVP ha detto che Brock Lesnar verrà sconfitto da HOMOS a Wrestlemania. Logan Paul, dopo aver snobbato The Miz come ospite al suo Impulsive TV, si presenta sul ring per l'episodio speciale del suo podcast, in questo caso più un talk show, consapevole di non piacere a nessuno in quell'arena, tranne a suo padre e a quel fan con il cartello di Prime Hydration, il drink di KSI e Logan Paul. Nessuno lo rispetta, ma non gli importa. Non gli importa perché è colpa del WWE Universe, è colpa di chi non riesce a vedere il suo talento, io ci riesco Logan, io ti adoro, tranquillo. E il primo aprile, che sarà il giorno del suo compleanno, sconfiggerà Seth Rollins festeggiando nel migliore dei modi. È partito poi il recap con tanto di emoji del clown in faccia a Seth Rollins dell'attacco della settimana scorsa, e poi il microfono ha smesso di funzionare perché, hackerato da Seth Rollins nel camion della produzione audio, il visionario ha fatto il suo ingresso nel tripudio generale, chiaramente è partita la rissa ma anche in questo caso ad emergere trionfante è stato Logan Paul, che con il suo colpo fortunato e il one lucky shot ha steso nuovamente l'ex membro dello Shield, una bella mattonata sulla mandibola che ha lasciato freddo in terra che manco sotto un cipresso. Buon segmento, stanno aumentando ancora di più la credibilità, che già ha, di Logan Paul. Dominic Mysterio contro Johnny Gargano, che ancora si porta dietro i segni dell'assalto subito ad NXT. Nella costruzione del match sono stati infatti abbastanza smart da far lavorare il figlio di Ray sulla parte infortunata, sulle costole di Johnny Wrestling, che nel finale è stato abbattuto dal paletto mentre preparava un superplex e con la Frog Splash il membro del Judgment Day si è portato a casa alla vittoria in un match discreto, riuscendo a sconfiggere per l'appunto un nome importante, anche se nel main roster non sta combinando granché, come Johnny Gargano. Un Johnny Gargano che sta vivendo sull'onda della nomea che si è fatto nel brand giallonero, ma purtroppo, come detto, a Raw non si sta imponendo per nulla. E un po' mi dispiace. Vedremo se dopo Vrestelmenia verranno mischiate un po' le carte, perché è chiaro che il Grand Eddie of the Mall è quasi sempre il culmine delle faide e c'è bisogno di una rinfrescata post-evento. Per adesso, niente di che. Dopo il match, Dominic ha riattaccato col pippone del Ah, il mio paparino Rey Mysterio non vuole sfidarmi. A SmackDown ci sarà tutta la sua famiglia, quindi chiederà a sua madre di convincere Rey a sfidarlo a Vrestelmenia. E magari aiutandolo a ritrovare le palle che probabilmente si è perso nella borsetta proprio di sua madre. Ok, forse stiamo sforando un po' con questa faida, cioè sfidatevi, ok, ma gli attacchi personali al tuo stesso padre? Porco Zeus. Roman Reigns ha concesso la serata libera agli Usos e ha chiesto a solo Seikoa di raggiungerlo, perché vuole parlargli. Edge, nel bel mezzo di un rito satanico, no scherzo, però era in una stanza piena di candele, ha narrato della sua carriera e di quanto può essere pericolosa. Nella stipulazione speciale contro Balor emergerà il diavolo che si tiene dentro. E quindi perché non chiedere la presenza del demone Finn Balor contro il diavolo Edge? Allora, molto figo sicuramente il promo, però posso dire un po' cringino il setup con le candele, le citazioni, un po' Inferno Paradiso, però Balor ha un buon motivo per rispolverare la sua parte demoniaca e questo mi fa imbarzottire. Rhea Ripley si presenta per parlare di Charlotte, dicendo che la Queen continua a raccontare del loro incontro precedente a WrestleMania, tre anni fa. Il problema è che durante quel match era una Rhea Ripley diversa, stava ancora cercando di farsi un nome all'interno della WWE, del main roster. Ora le cose sono cambiate, ora Charlotte deve ammettere di essere inferiore a Rhea Ripley e l'incubo sa perfettamente di essere in grado di far emergere tutte le insicurezze della regina. Una regina che può non rispettarla, però deve sicuramente temerla. Le damage control per qualche strano motivo l'hanno interrotta, offrendo il proprio aiuto per la sfida contro Charlotte. La Mami le ha bellamente rifiutate e quindi Bailey contro Rhea Ripley. E cosa devo dire di questo match? Questi due nomi potrebbero tranquillamente sfidarsi in un premium event, invece l'abbiamo avuto a Raw, hanno avuto un discreto minutaggio. Il match è stato bello, ci sono stati chiaramente le interferenze di Trish Stratus, Lita e Becky Lynch contro le damage control e le loro scorrettezze. A vincere è stata la Mami con la Riptide e c'è ben poco da dire, è stata una contesa bella, molto bella. Sono due dei nomi più importanti della divisione femminile, anzi del mondo. Era assolutamente impensabile rimanere delusi. L'unica cosa che mi fa storcere un po' il naso è il peso specifico delle damage control che da quando sono tornate sembravano chissà che, invece alla fine, ok, hanno avuto un regno titolato di coppia, però si poteva fare decisamente meglio e anche Bailey non è riuscita a vincere il titolo contro Bianca. Chad Gable incontra Otis mentre si fa una manicure, però ste gag mi ha rotto le palle, ma vabbè, Chad Gable contro Ricochet e mi stuferò a dirlo, ma Gable sul ring è incredibile. E contro un altro performer fuori di testa come il one and only, poteva uscire solo una contesa fighissima e così è stato, solo che mi gira le palle vedere ancora una volta Gable relegato al ruolo di spalla comedy di Otis che vuole entrare nei maximum male models, viene corteggiato da Maxine Dupri e che due maroni e separateli una volta per tutti, allontanate Gable da Otis e rendetelo un performer credibile, non un idiota. Vabbè, comunque, a vincere è stato Ricochet con la sua shooting star press, agevolata dalla distrazione fornita proprio da Maxine Dupri che si è portata via Otis presente a Bordo Ring, proprio come Strowman. E niente, un grande incontro, nulla da dire, anzi. Bianca Belera e Asuka contro Chelsea Green e Piper Neven. Ma, 5 minuti di match assolutamente skippabili perché non mi ha impressionato per niente questa contesa e soprattutto non capisco come possa risultare interessante un tag team match del genere. È anche vero che si sono visti i primi scazzi tra Bianca Belera e Asuka, perché la nipponica durante il match ha per sbaglio colpito la IST, ma nel post-match mica tanto per sbaglio, attaccandola e mettendola al tappeto. Ah, ovviamente hanno vinto la campionessa e la number one contender con la KOD su Piper Neven, ok, quello è stato sicuramente impressionante. Roman Reigns, Paul Heyman e solo Sikoa si presentano per chiudere lo show, e dopo aver chiesto di riconoscere la grandezza del Tribal Chief, Cody Rhodes si è presentato per chiedere, proprio al leader della stable, come mai l'American Nightmare sia così tanto un problema per la Bloodline. Roman ha detto che l'unica problematica è ciò che Rhodes rappresenta nel mondo del wrestling, ma è anche vero che, guardando al suo passato, prima è stato Stardust, ma non voleva esserlo e quindi è scappato dalla WWE. Poi ha aperto una sua compagnia, ma non è riuscito ad andare over nella sua stessa creazione ed è scappato via. Poi è tornato, era over col pubblico, si è infortunato ed è dovuto scappare per cause di forza maggiore. Quindi parla sempre di terminare una storia, ma la realtà è che nel suo passato non è mai riuscito a farlo. Wow! Un Roman Reigns così confident come da quando ha creato la Bloodline mai visto. Assurdo. La WrestleMania non riuscirà a concludere la storia, perché è un po', scusate la ripetizione, la storia della sua vita, arrivare lì lì per farcela e poi fallire. E quindi la parte importante di questo racconto non è tanto WrestleMania, ma è quello che farà dopo, quando avrà fallito nuovamente. Spera solo che la decisione che prenderà Cody Rhodes renderà fiero il suo paparino e non sarà quella di scappare via di nuovo. L'ex atleta dell'Olelite ha confermato quanto detto dal Tribal Chief, ha sputato fatti. Ma il campione indiscusso deve anche smetterla di tirare fuori il nome di suo padre. Perché non parla della madre di Cody? La stessa madre che gli ha detto di mettere KO Roman Reigns a WrestleMania e di colpirlo ancora nel caso non dovesse bastare. Oppure perché non parliamo del post-Wrestelmania quando Reigns si ricorderà cosa vuol dire perdere, quando Jay lo abbandonerà, quando Jimmy lo abbandonerà e Roman rimarrà con solo Sikoa, che ancora non è pronto per questi scenari importanti. E quando se ne accorgerà anche il fratellino degli Usos si farà da parte e poi toccherà Paul Heyman. Paul Heyman che tornerà ad essere un avvocato qualsiasi e Roman rimarrà solo, senza titoli e senza famiglia. Cody ha poi attaccato solo Sikoa che voleva reagire col Samona Spike ma è stato fermato dal campione indiscusso e così si è chiusa la puntata. Allora un faccia faccia spettacolare, forse un po' meno rispetto al precedente ma comunque finale di puntata scoppiettante. Mancano ormai due settimane a Vestelmania quindi è normale che le storyline vadano avanti e vengono ancora di più infiammate. E quindi prepariamoci per il Grand Edge of the Mall, fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate di questo episodio. Dal vostro Certify 2 è tutto, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi saluto con il solito e calorosissimo. Ciao! Ciao! Ciao!